Musica Amici di Fano TV ben trovati Per lo speciale di oggi ci troviamo nuovamente a Fossombrone imminenti sono le prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre e allora andiamo a conoscere un altro candidato sindaco Noto imprenditore nel mondo della moda Massimo Berloni, sindaco per Fossombrone Buongiorno Buongiorno a lei Allora, come mai ha deciso di candidarsi e perché la sua lista è stata definita una lista trasversale? Beh, mi sono convinto di candidarmi per ridare un po' di quello che il territorio mi è stato così tanto generoso con me quindi ricontribuire, ridare un qualcosa a questo splendido posto dove vivono i miei figli dove vivono i miei nipoti dove per tanto tempo ho sempre detto che mi sento orgoglioso di appartenere Sulla seconda domanda, perché la lista trasversale? Ma che qui è molto semplice la lista trasversale perché credo che sia un'espressione di una qualità che c'è di persone oggi che vanno dalla sinistra moderata alla destra moderata delle quali io ho assolutamente bisogno di avere per far sì che questo paese abbia una visione una credibilità e un modo di operare molto più sinergetico molto più coeso e io sono perfettamente convinto che questo sia il mix giusto e sia la base per cui ripartire verso un nuovo modo di pensare le cose e soprattutto sono così talmente tanto convinto di questo che me ne prendo totalmente la responsabilità perché sono perfettamente sicuro di quello che dico perché la trasversalità è un concetto che spesse volte viene legato a un aspetto solo politico invece secondo me la trasversalità è un qualcosa che deve raggruppare tutte quelle buone persone che ci sono, ripeto, a sinistra e a destra verso una predisposizione a cercare di farci stare tutti meglio e non a cercare di stare un po' tutti peggio cosa che in realtà qualche volta in modo particolare nelle piccole realtà che poi per noi non è così tanto piccola si evidenziano cioè stare bene insieme cercare e pretendere di stare egoisticamente dico nella maniera più sana bene ognuno di noi e non cercare come spesso succede che il male di qualcuno è la gioia di qualcun altro iniziamo allora con una questione ostica ovvero la questione ospedale ma questo è stato un cavallo di battaglia che credo che interessi a poche persone di fatto perché di chi ne parla in realtà ci sono tante persone invece che che hanno bisogno di questa struttura alle quali la prima cosa che dobbiamo dirle e dirgli che è una cosa seria è che su questo tema non ci si può scherzare sopra non può essere usato come slogan giusto per attirare attenzioni ho sempre detto che alla mia età sono stato sempre garante di quello che dico e credo che anche in questo caso è giusto che io dica e ribadisca che l'amministrazione al di là di quello che si dice ha sicuramente poco potere in merito all'ospedale certo è invece che usando quelle che sono le buone relazioni che io sono convinto di apportare il meglio che si può per questa struttura perché questa è una struttura che non serve solo ai cittadini ma serve anche alla mia famiglia e a tutti e tengo sicuramente all'ospedale e ho una struttura nella stessa maniera che ogni cittadino di buon senso vuole, pretende e pensa di ottenere Fossombrone è concepita come città inclusiva, in che maniera? è inclusiva perché deve essere al centro di un territorio e quindi per forza essendo al centro di sua natura deve essere inclusiva in tutti gli aspetti a partire da quelli che possono essere gli aspetti che passano dal turismo al collegamento che è un collegamento strategico su un asset importante come la vallata del Metauro credo che debba essere inclusiva perché come ho sempre detto il fatto di includere anche socialmente le categorie più deboli devono e deve essere una priorità in assoluto inclusiva perché dobbiamo portare economia dentro attirare aziende e quindi essere fautori o promuovere tutti quelli tipi di attività che in realtà devono generare benessere perché il benessere è un qualcosa che ai nostri concittadini va dato e mi impegno per questo La sua campagna elettorale è stata itinerante toccando frazioni e borghi di questo comune che importanza hanno? Ma innanzitutto l'importanza è stata per me personalmente perché ho conosciuto le frazioni e le località limitrofe in una maniera così profonda cosa che senza questa avventura non avrei mai potuto conoscere quindi per me è stata un'esperienza positiva ma è stata anche un'esperienza della quale mi ha reso partecipe alla bellezza e alle possibilità di queste frazioni che dobbiamo valorizzare, che sono parte non limitrofe ma integrante di una società estremamente importante che io credo che debba conoscere per primo meglio tutti i forsembronesi per poi urlarlo a tutte le altre persone Come si può evitare allora l'isolamento delle frazioni e dei borghi? Con l'ascolto, l'isolamento è una forma talmente brutta che passa attraverso il non sentire è una delle prime cose che mi sono sempre imposto e ho detto a tutte le frazioni che vorrei, anzi voglio che ogni frazione, ogni burgo abbia il suo rappresentante perché soltanto organizzandosi bene si può far fronte alle esigenze che sono tante ma bisogna anche definirle per ordine di priorità il nostro compito è ascoltarle è un dovere, è la riflessione ma soprattutto l'impegno mio è dargli una mano sia ad ascoltarli ma anche sapersi organizzare affinché riusciamo a concretizzare quelle che sono le vere esigenze A proposito di priorità nel suo programma ne viene evidenziata una in particolare ovvero il sociale Sì, il sociale perché è una cosa estremamente importante il sociale non saremmo e non faremmo niente di positivo se non siamo consapevoli che il sociale è la prima cosa da fare Dico sempre come espressione che la squadra per muoversi perché io definisco la comunità come se fosse una grande squadra cosa che lo è deve essere corta per muoversi bene non può esserci troppo spazio tra i primi e gli ultimi ma soprattutto va monitorata va resa evidente quello che sono le primarie necessità che la nostra comunità ha bisogno quindi non vedo come una società possa progredire se non si pensa al sociale che non è inteso soltanto sugli ultimi ma è inteso anche il sociale arriva a quelle che sono le esigenze dei giovani a quelle che sono le esigenze quotidiane che ovviamente l'amministrazione non è tenuta a farlo ma è in dovere di farlo Spazi ed opportunità per i giovani che cosa prevede il suo programma? Anche qui i giovani la prima cosa che bisogna saper fare secondo me è ascoltarli dargli la loro dignità capire anche qui da loro cos'è che necessita per loro affinché abbiano una vita che possono trascorrere orgogliosamente a Fossomrone credo che gli spazi nei quali loro possono in qualche maniera studiare o degli spazi verso i quali possono mettere le loro attenzioni a quelle che sono le esigenze tipo suonare, stare bene insieme giocare per i più per i più giovani o educarsi stando nel branco stando nella loro tribù e cercando di dargli il supporto ma soprattutto la dignità che meritano io sono un grande sostenitore dei giovani sono uno che dico sempre che con i giovani quando sto con i giovani esco fuori anch'io un po' più giovane quindi mi danno un'energia della quale senza senza di loro ci priveremo di una delle cose più belle che la vita ci può dare quindi i giovani sono fondamentali perché Fossomrone è una città giovane e per i giovani ci devono necessariamente essere i giovani e non solo delle forme di intrattenimento sì io da giovane ovviamente so qual è la forma di intrattenimento no le forme di intrattenimento è fondamentale è fondamentale che ci siano francamente riconosco che certe cose che i giovani mi chiedono sono paradossalmente anche le stesse cose che chiedono i meno giovani ad esempio il cinema o un teatro è una forma ricorrente che tutti chiedono ma mi chiedo una società una comunità come la nostra può far meno di un luogo del genere secondo me no e mi impegnerò e do la mia parola che farò tutto il possibile e sono convinto di riuscirci a riaprire un cinema un teatro come segno di identificazione di comunità cos'altro c'è in programma per valorizzare il patrimonio artistico e culturale di questa città che ovviamente con il rilancio di tutto ciò si alimenta anche il settore turismo assolutamente allora la prima cosa è un consiglio che do che intanto a tutti i forsempronesi chiedo di cosa che io ho avuto la fortuna in quest'ultimo periodo di capire meglio qual è il vero valore che c'è a Fossombrone perché sicuramente questo è un compito che tutti dobbiamo assimilare capire e valorizzare e tenere nella giusta considerazione il grande patrimonio che noi abbiamo da quelli che sono i resti archeologici il parco archeologico musei e quant'altro secondo tema è veicolarlo bene meglio di quello che stiamo facendo mettendo anche più risorse ma il terzo tema fondamentale è creare le strutture perché Fossombrone e i forsempronesi nel senso positivo sfruttano questa enorme potenzialità facendo fermare dando la possibilità ai turisti che arrivano di fermarsi e stare bene insieme con noi qualche ora in più perché ne vale proprio la pena la scuola come investimento sul futuro che cosa ha intenzione di fare a riguardo la scuola non è un investimento anche qui è un dovere bisogna che ci vendiamo quello che non abbiamo ma quello che abbiamo per far fronte a questa che è una cosa di primaria importanza qualora ne sia necessario è il motore del nostro futuro è la visione del nostro futuro credo che l'amministrazione abbia un compito importante fotografare quello che sarà per noi fra dieci anni o vent'anni nella nostra comunità e stare vicino alle istituzioni che si occupano della parte come dire di istruzione affinché ci sia una relazione tra quelli che possono essere le esigenze in termini prospettiche e l'attuale sistema che deve in qualche maniera confluire e essere allineati con una visione ventennale quindi creare scuole e no creare perché ovviamente noi non possiamo crearle ma suggerire a chi è preposto quello che è l'indotto economico quello che è la visione che noi abbiamo i nostri progetti affinché ci sia una scuola che sia pronta a fornire quello che è il lavoro perché ritengo che il lavoro bisogna andarlo a cercare ma la vittoria vera è quando il lavoro cerca i giovani perché hanno bisogno e io credo che se riusciamo a interpretare bene questo sarà il lavoro che viene a cercare i giovani e la gente che ha bisogno di lavorare parte fondamentale per il benessere per dare come dico gioia e serenità ai nostri concittadini cosa mi dice per quanto riguarda la riqualificazione del centro storico di Fossombrone qui probabilmente deve andarlo a chiedere ai negozianti perché loro sono i testimoni di quanto io ho fatto di quanto credo e di quanto penso che sia importante il nostro centro storico ho dato tutto quello che potevo in passato senza nemmeno pensare che potessi candidarmi in un futuro per quello che è il mio istinto io ho già dimostrato quanto bene voglio e quanto per me è importante il centro storico fare la battaglia chiusura apertura o qualcosa del genere credo che sia riluttivo io non voglio ne chiudere il centro storico come magari qualcuno sostiene l'ho ribadito io mi concentrerei più sul fatto che il centro storico venga rivalorizzato torni ad essere un punto che non è solo un punto perché ci sono tanti negozianti ma il punto della comunità la comunità si deve trovare in un centro storico è lì che il fulcro è lì quello che è l'espressione del nostro orgoglio quindi cosa vuole che le dica non basta soltanto pavimentare bisogna fare un progetto molto più importante e io sono sicuro e ho già individuato cosa per chi volesse votarla diciamo allora al pubblico a casa come fare? deve votare a noi perché siamo il meglio che c'è siamo siamo un gruppo nella quale ci ha messo la loro faccia ha messo la loro tutta esperienza è un gruppo che ho messo insieme orgogliosamente di cui me ne vanto e basta semplicemente posizionare la croce su Berluni sindaco grazie grazie naturalmente al pubblico che ci ha seguito da casa io vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi